Ciao a tutti, adesso voglio fare questo video anche in italiano e spero molto che sia possibile per voi capire tutte cose che voglio dire, voglio dire come imparare il tedesco molto molto facile e molto molto veloce con il mio canale YouTube. Allora, il più più importante quanto vi imparare imparare, scusi, imparate una lingua, una lingua nuova e che non avete paura di questa lingua. Quando vi avete paura non è possibile imparare niente, però quando vi simplemente provate a imparare, a ascoltare un po', a parlare tutto che è possibile e solamente vi... sì, per esempio, quando io faccio questi video, simplemente... potete vedere questi video e simplemente ascoltare la mia voce, solamente ascoltare tutte tutte le frasi che io dico in tedesco e è molto molto importante che voi ripetere il video ancora e ancora. e la prima volta che vi... la prima volta che vi ascoltare il video e vi vedete il video è molto importante a provare, a capire tutte le cose e per questo io faccio i suoi titoli in inglese e francese e con il tempo io anche voglio fare i suoi titoli, i suoi titoli in italiano, in spagnolo, in molte, 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 molte lingue. però logicamente non puoi, non puoi, non puo, non posso, non posso, non lo posso fare a una volta. preparare un video ha bisogno di... preparare un video ha bisogno di... di tempo, però io... io voglio... preparare un video ha bisogno di... traducere... traducere... i video... in... in... molte lingue. traducere... e... per... per... per adesso... ehm... tutti... i video... video... hanno i suoi titoli... in tedesco... e... si... non voglio... ehm... volete... aspettare... ehm... molto tempo... ehm... è possibile che vi... ehm... ehm... copi... 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 ehm... il... 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 tedesco... e... lo... transmettete... transmettere... ehm... lo prendere... ehm... e li fare... a... Google... e... ehm... a... tradu... lo traduci... lo traduci... lo traducire... in Google... e... 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 così... che è possibile... per voi a cominciare a imparare un po' il tedesco e questo è il più importante che quando vi vedete i video, la prima volta è necessario, hai bisogno che vi prendete tempo per veramente capire tutte le parole, tutte le parole, sì questo è il più importante, capire tutte le parole, vari sui titoli e dopo questo solamente ancora e ancora volta ascoltare il video, ascoltare e ascoltare e provare a ripetere tutte le frasi, a parlare e questo è così importante che vi solamente parlate il tedesco, parlate e ripete quando io dico una frase, una parola in tedesco, vi ripetete questa frase, sì, spero che vi capite tutte le cose, scusi per il mio italiano e non molto molto bene e veramente spero che è possibile capire il mio italiano, allora ciao e io spero che vi imparate molto molto veloce e facile il tedesco con me, grazie grazie a tutti